Ciao ragazzi, ben dittorato. Allora, la sesta volta che faccio il video, speriamo che adesso sull'orario di collettivo, pensavo fossero le 11, in realtà sono le 11.30, vediamo se sono di puntuale, sono le 11.28, e quindi tra meno di due minuti dovrebbero sparare, come vediamo. Un po', adesso dovrebbero iniziare, vabbè anche i secondi. Eccoli! Uno! No, finiti, finiti, basta, torniamo a casa. Unico in suo genere, questo spettacolo, bellissimo, eccoli. Dio boi, questa era una bella mina! Eccole qua! Minchia, questo si fa il spettacolo! Cazzo, che belli che sono qua! Cazzo, che abbiamo questa merda di un barche davanti, però sarebbe una figata, si inizia. Bombe! Sembrava tipo la gran cassa della bandiera. Tram, tram! Che figato sulle barche, peccato che abbiamo sta merda davanti. La bandiera italiana, grandissimi! Buon appetito! E la madonna! Appio! E la madonna! Due bombe, no tre Ti ho detto che c'erano delle mina da far paura Sì Madonna Dio santo 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 Sì, vabbè, vabbè. guarda che figata che figata queste sono delle empolghe guarda parche che sorignacca che tiro è abbastanza precizi che precizi che sono stato punto grazie a me o o un 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 ma sono stati un'evento oh Ma dai che sfiga Grazie 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 Complimenti Complimenti Grazie Grazie Buongiorno Tres Traz Perciò Ca Com 144 No, 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 no guarda com'è dal telefono nooo eh non posso perchè lei non sa portare qualità ma va bene che cazzo tanto questa cosa è peggio di una lampadina lo sa hai sentito che cazzo ci sono che cazzo ne sparano uno, due, tre cinque barchi a grande che sparano Giulia ti piacciono queste sì, l'ho appena detto queste sono bellissime stai soccorrendo cinque secondi madonna che non 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 si è vero tra belli bene, pausa e adesso stai iniziando occhio bellissime madonna quanta luce grazie bombe qui là bellissime complimenti che sono così che bucicano tra le regolette che lampeggiano sono bellissime bucicano No, 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 no. non so se lì sto così c'era tipo un po' che è fatto a sbuo c'era un po' che è fatto così no però spettacolo unico nel suo genere no 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 Buon attimo che spettacolo Grazie 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 Minchia Che mina Grazie 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 a tutti. 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 Siamo alla fine. Grazie a tutti. parte finale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.